...mi lascia stere fatto ed emozionato. Vorrei conferire col Tuz del Brin. Dal call center in testellare, una breve pausa, poi la voce riprende. Sei fortunato, in genere sempre molto occupato. A te stai terminato nell'aula in Pirea una conferenza sulle rose. Tassonomia ed ibridazione. Grande successo tra gli spiriti astanti. Forse riesce a sentire gli applausi. Attimi di impaziente, suggestione di... A te stai terminato nell'aula in Pirea una conferenza sulle rose. A te stai terminato nell'aula in Pirea una conferenza sulle rose. Ed in vera vorrei sentire in oggi frecce e sverriccente delle stelle la canzone di un gioco. Che è il Varda alla luna e che consegna di Drencantum di strada che spessa di pesa legata in amore una serenata di speranza. Vola, colomba, bianca, vola. Diccelo a te che tornerò. A poco a poco la bustola si smontana. E mi pare di sentire un fiare dell'acqua di una seriola che del re della cate da desvet mai de replicare o ritornare.